Ambrosol, con le sue bombolette spray multiuso, è adatto a qualsiasi esigenza. Oggi decide di presentarti un autentico salvavita. Rilevatore di fughe di gas, un prodotto spray efficace che individua perdite di gas o aria nelle tubazioni, valvole, bombole, serbatoi e impianti GPL. La bomboletta spray Ambrosol permette di rilevare le perdite di gas anche nei punti più difficili da raggiungere e quindi di poter spruzzare il prodotto a distanza. L'eventuale formazione di bolle o schiuma svela la fuoriuscita di gas dal punto in cui state spruzzando il prodotto. Prodotto a base di tensioattivi biodegradabili, non infiammabile, individua ogni tipo di perdita. Anche questa volta Ambrosol ha creato il prodotto intelligente per la tua sicurezza. Rilevatore di fughe di gas Ambrosol. E sei protetto.